... Roba alla grande ragazzi, alla grande, che felicità! Bene, perché a me piacciono gli uomini di esperienza che sanno distinguere. Guardi, è forse colpa mia se mi escono tutte di fuori. E che roba è, non ti fanno queste cose. Prima promette, poi non mi andieni. E a me mi hanno dato questa cosa piccola, bruttarella pure, che sembra un cesso. Sembra, è un cesso. Ancora lei? Non se ne va, desi vergogni, turpe, guardone e laido. L'aido non me lo può dire, sape, perché io vado a messo ogni domenica mattina, anche se le legge l'osservatore romano. E non va niente, io me ne frego di queste cose. La felicità è lo stesso. C'è Saul, c'è Luciano Sergio, ma prezitipatia. Che brevo, quando è brevo. Abbiamo creato una specie di simbiosi con lui, anche perché ha capito la mia provenienza, diciamo, la mia cultura, la mia intelligenza. Vieni a farti, cretino! Presenne, vieni fuori. Presenne, il superiore, guardi che io non c'entro. Ah, sì, sempre così vogliamo. No, no, non c'entro proprio dal buco. Mio Dio, sono loro i miei fratelli! E io li affronto da uomo a uomo. Ha dieci secondi di tempo, mi dica a che specie, sottospecie e famiglia appartengono. Eh, vabbè, ma scusi, io vedo solo il culo. La coda, prego! Vabbè, ma la coda sta vicino. Va bene, allora me lo faccia vedere. Perché si vergogna? Lo vuole vedere? Ecco io, ma la vogliamo finire con sta storia. E lo vuole vedere? Guardi qua, è a rossetta, è a tocco! Signore, non ce l'ho mezzo prosciutto? No! Quattro uova. Vieni, e non te ne pentirai? Io c'ho feve, sono due giorni che l'ho fatta io. C'ho feve, non ho fatti. Ma che stai facendo, Pasquale? Fa una prima spalle. Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto. Gamma, grotamil, traseptina, 28%. Fosfatase alcalina, 0,57%. Reazione di Kunker-Wurman, 42,9%. Non avrà mica preso il cortison chimicitina? Ho preso la metropolitana. Niente! 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 La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Niente! 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 Grazie a tutti.